Deve stare molto attento in Real Madrid perché come dicevo l'Atletico con queste verticalizzazioni ha il Mandzukic secondo me un elemento estremamente adeguato. Attenzione c'è un'opportunità, il tiro a gol, il vantaggio, l'Atletico di Madrid in vantaggio e segna lui Mario Mandzukic, il giocatore arrivato dal Bayern Monaco, grande sacrificio nella partita di andata, viene ripagato subito con il gol.